Tra poco hai il camp di pallacanestro. Tu hai tutti i numeri per sfondare. E io posso aiutarti. Non è quello che voglio, papà. Non mi fai mai fare quello che voglio. Non mi fai essere... essere me. Aspetta, hai sbagliato piano. A Will Smith non capitano certe cose. Papà! Dom! Ma che cos'è? Matrix, per caso. Benvenuto, King James. Io sono il re di questo dominio. Questo è il server verso. Che hai fatto a mio figlio? Dov'è Dom? L'unico modo per riavere tuo figlio è giocare a pallacanestro con me. Pete, manda il pagliaccio tra i reietti. Aspetta! Qualcuno mi aiuti! Che roba è? Sono un cartone? Che succede, amico? Devo mettere insieme una squadra speciale per riprendermi mio figlio. Sai io cosa ti serve? Un dream team. Bam! Sparo da tre! Ricominciamo da capo, che dici? King James. Benvenuti... Ecco a voi... Lagoons Squad! Devi vincere questa partita. Chiudiamola. Vai, Lebron! ...e riprendere nostro figlio. Ahia! Classico! Qui ci vuole la vecchia scuola! Oh! Welcome to the Space Jam. Oh! Are you? Chiud political? Grazie.